I comandi li odio, comunque li odio Ah la pelle no 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 qualcosa ok Questo è ovviamente con due macchine che si Interpolano, è come avere due Alexa praticamente Il PG che uso a modo mio è Connor, però è già morto, cacchio Spero di poterlo usare, potrebbe anche smettere di usarlo Prendi l'auto e vai a casa, l'autobus Connor è quello lì che lo faccio con passivo E invece Connor lo userò di ghiaccia aggressiva Invece lui lo userò emotivo, passivo R1 per cambiare, ooooooh Ah no, è back avanti Ok, comunque R1, buono Questo è il primo tasto che volevo sapere Questo è il primo tasto che avevo voluto sapere Cioè faccio R1 e R1 e mi si riadrizza Ok, dove devo andare? Là Però là c'è la merda Là c'è la merda Cioè vedo i stronzi vero? L1 Per avere un ingrandimento Ok È emotivo quindi l'ha da ascoltare Ah, non posso ascoltarla, non c'ho l'anima Peccato, non sarei rimasto Però ce l'ha scritto perché è per chi ha l'anima Quindi non posso Peccato Papapero Sì Sì, prima o poi sarà veramente un cesso questa situazione Sarà un cesso Cioè più o meno quasi Perché Perché Sarà il livello O meglio, solo gli artisti che vi camperanno in questo tipo di mondo Sono robe che gli umani possono piacere Cioè quelle cose possono piacere agli umani per umani Ok Nel senso arte queste cose qua Camperanno O gli sport Gli sportivi in generale Ma Altri lavori Cioè Muoiono altri lavori Sono fottuti Poi cresce la popolazione Credo che si diminuere la popolazione mondiale Dopo i 10 miliardi Ve lo dico oggi nel 2020 Secondo me sì Camminata nel parco Questa è una missione Mostra leggenda Non mi interessa, continuiamo Quindi Marcus Cara, Connor si chiamano i tizi Ok Madò Madò Stringo l'ano Sto già stringendo l'ano E' più 18 questo gioco L'ho preso digitale Non lo so O questo se la sbatte Penso di no Mi ricordo cosa è brutta Però non credo Non credo sia andato così oltre Non è questo tipo di gioco penso Lei è Devo fare fredda E Distaccata Cioè fredda Distaccata e cattiva Se posso Se posso anche Non cattiva Proprio Non sfrontata Una mia bella parola Eh Un attimo madonna Dio a questo tizio Che ha affettato il gioco Che fa schifo i tasti Diglielo a lui Cazzo è il tizio Ma Ma Pezzo di merda bambina Alice si chiama la bambina Eh ma comunque Ma E ti dico fottiti No Voglio dirgli fottiti Eh non te lo dico eh E' così Lei la faccia così eh Marcos fighettina Lei ultracazzuta Che fa il Fa al massimo frigorifero R2 per scansionare l'ambiente Ok Compiti urgenti Scalcoli spazzatura Papapero Papapori Oh Questa spazzatura Oh trombetta E' qua la spazzatura Alla mia immaginazione Vabbè facciamo con il modo tuo Scalcoli spazzatura Boh Mette spazzatura Prendi il bidone Prendi il bidone dei rifiuti Io vedo Ah quella è roba Eeeh Sì Sì Prendi il lavoro pulito Aspetta Magari ce ne vedo roba Mentre sta parlando al telefono Posso mettere a posto la Questa merda Così mi rompio i coglioni Se guardo la tv Il tipo Magari No Con la bambina non mi fai un cazzo Uguale uguale Lei è un frillatore incazzato Lei è un frillatore incazzato Poi ci la cucina Va bene La bambina è nascosta dietro il divano Va bene Sì Una bella situazione Gioco Madonna No C'è un panteon che voglio rilasciare Ma è meglio di no No io Ti prego Gioco Ah vabbè Non mi metto in mezzo Infatti Anche io mi incazzerei Era il telefono Sono andato easy Olè Non ho capito il senso di aver fatto una visuale così brutta Cara Cioè Sei nuova e fai già cagate Minchia Ma fai un giro su se stessa Va bene Va benissimo Che tasti brutti Olè Che cazzo guardi stronzo Eh Guardati i cazzi tuoi C'è un po' di disagio nei tasti eh Ehi tizio Calmati un po' Devo fare i facoltativi Eh Sono già così veloce Ma no Sono velocissimo Anche se ho questi tasti di merda Cos'è che devo fare? Aspetta Riferisce a Todd No è il telefono Meglio lo dico dopo Nel frattempo faccio altro Pa 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 Puliamo Laviamo Ah no no Facciamo come vuoi tu Ce la faccio eh dai Come il mio canale Come il mio canale La bambina Non me ne fegge un cazzo di cagarla Perché sono un frullatore incazzato Quindi Non me ne fegge un cazzo Bambina Accordati un piede Termine tecnico Che cazzo stai facendo tizio? Io non ti guardo Io non ti guardo Fai quello che devi fare Ma non ti guardo Porca puttana Questa stai strutturando il borbagallo Ah l'ha comprato Ok Non credo si stia strutturando il borbagallo Quindi È già una cosa positiva Madonna immobile Puliamo i piatti Quanta roba sporca Ah due settimane giustamente Che cazzo Ah devo fare così? Che figo Io spero che David Cage Faccia una storia Faccia una storia su PS5 Con Con DualSense Madò Che minchia guardi bambina Che cazzo guardi Alice C'è una bambina Che cazzo sorridi Bambina di merda Facciamolo grande Olè Lei la devo fare insensibile Portami una birra gelata Invece 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 Marcus lo faccio Lo faccio subito Super sensibile Te lo dico eh Invece Cono lo uso a modo mio Non volevo morire Che porca troia però Che palle Toad Tenga Te la lancio se posso Te la lancierei Non voglio mettermi in mezzo ai coglioni Prego Vai vai anche a casa spruzzo Ciao Ah piano terra pulita Eh scusa eh Mi ha chiesto il gioco Anche io sono stronzo scusa Così imparo Cioè Sono appena nata praticamente Sono resettata Olè Dai Pian piano capisco i tasti Questi tasti fanno proprio schifo L1 sono curioso No i frullatori non sono curiosi Papapapapapapa Si conta La nomenclatura è ambigua Perché l'android Che cazzo ho questi Area stanza Le prima cosa che farei Perché sono un frullatore Ma voglio vivere Ok Qualcosa mi dice che servirà più avanti la cosa Percedere ogni cosa che faccia Potrebbe essere up Ah scusa Perché accendi Io non devo accendere un cazzo Sono frullatore Non parlo con altri gli etrodomestici Pa 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 Leggi no? I riflettori non sanno leggere Pulisci però si Pa 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 Quello è una famosa idea di capire il bong Mi dissocio per sicurezza ma Non ho capito cosa devo fare Leggi, sistema il disordine Ehm no, non devo leggere nulla Non me ne frega un cazzo Eh, devo andare da questa parte pa 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 Ci sono, ho visto delle medicine Sono un frullatore, sono un frullatore Pulisci Pa 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 Menomai che non devo fare tutto io da su E me la sarebbe una tua di coglioni di Dio Prendi Disco di soltemi conto portamentale, ok? Pistola dentro il cassetto Prendiamo appunti raga Oddio, ho sbloccato un'opzione di qualche cagata di dopo Eh, lo sape l'avevo intuito eh Sistema il disordine Che cazzo c'è in disordine? Oh Qui c'è un po' di me C'è la schifia C'è una roba qua Pulisci Come ve l'ho fatto capire che la pulisci? Antidepressivi Ehi, aspetta un attimo Aspetta un attimo Ehi No, adesso me lo fai vedere Oh Fammi Fai L1 Fai L1 Perché Mi sembrava la bambina Scusi, era la bambina Mi sembrava la bambina nel foglio Mmm No, la bambina è un robot Così cliché questa cosa Davvero così cliché? Dai Mmm Mi puzza che non posso guardare Secondo me lì c'era il lint Per capire Eh Adesso ti Non so come dirlo Ma tira un po' il culo Se lo rifai Pulisci il bagno No Prima devo toccare la bambina E poi tocca il bagno Magari è un po' più decente Come cosa Ah un altro bagno è Ok Eeeh Gesù Vabbè Mi faccio Cioè In teoria no Perché voglio farla proprio così E' GDR So che Emporia è impostata su essere amorevole con la mammina Ed invece devo usare Marcus un po' più aggressivo Perché adesso non succedono cose Lo so Ma io voglio fare il contrario Cazzo Poi Connor lo usa a modo mio E ciccia Figo questa Geggio Lo voglio anche qui in casa Allora credo che lo sto usando male Ok Sì ma mi sa che dovevo pulire altra roba Oppure non sporco Bagno pulito Vai Ah io non volevo andare in quel Aspetta un attimo Scusami In quella stanza di questo qua Che cazzo c'è qua dentro E' un altro bagno Ah è un altro bagno Vabbè puliamo tutto Anche sul robot Mi ha fatto uno sguardo Che ha visto troppa roba Ho fatto tutti i colpi Oh li sto facendo a cazzo di cane Mi so che potevo Bambina Esatto Basta che non mi rompi i coglioni Non piangi Non rompi i coglioni Mi sembra Mi sembra un po' fatta bene Per essere una bambina Comunque Cioè Faffanculo Per essere un robot Se la bambina è un robot E' fatta bene Cioè che modello è Quanto cazzo gli è costata Questo tipo Non mi sembra il tipo Ricco a caso Che ha tutta questa roba Cioè dovrebbe avere Due robotto Questo tipo in casa Quanto cazzo è ricco Mi sembra una testa di cazzo Oddio Oh santo Cosa sto sbloccando Stanza reata Alice Ti posso parlare Ma non mi fai con cazzo Sei un pezzo di merda Non mi fai con cazzo Parla con Alice Va bene Solo perché voglio fare il completista Un paio d'altro Bambina Ciao Codati Ciao Diplomati Realista Esattamente come voglio che parli Voglio Non voglio Voglio Negazione Madre Distante Voglio Distanza scoppia Non mi fai con cazzo Di lei Lascia in pace Voglio Distante Distante Pianeti Voglio distante Pianeti Nei luce Tra bambina e lei Percorso Sbloccato Figo Voglio distante Con la bambina A palla Proprio No Il frullatore Scusa Non voglio guardare Ah giusto Sono Le cose che devo fare Con la bambina Comunque Devo fare lo stronzo Ma come vuole Tipo Minta Forse lo tratterebbe La bambina Soltanto Così non mi rompo i coglioni Il tizio Che trip Cos'è Aspetta L1 Voglio No non sono curioso Sono un frullatore Non mi fai con cazzo No no Non mi fai con cazzo Sono un frullatore Ciao ciao Tizio Ho finito tutto Posso andare Nuove istruzioni Mi servono Si C'è una grulli Figo Dai madonna I comandi Che fai? Sto giocando Stai giocando Ehi So che pensi Pensi che tuo padre Si un delinquente? Si Io si Lo penso Fare palesimente Non che l'ho fallito Perché hai due robot Non credi che ci abbia provato A far funzionare le cose Ma nonostante tutto Arriva sempre qualcuno Che manda tutto a buttare Ma di plastica Le sedie Mi odi Mi odi Non è vero Ehi Dillo Dillo che mi odi No ragazzi È un robot Cioè Come fa questo tipo Ad avere i soldi Per il robot Tizio Sei un piccolo angelo Comunque E poi Non c'ha L'anellino La bambina No Per far capire Che è un androida No È una sostituzione Del cazzo Questa Comunque Vediamo Vediamo anche così Finisci di Bravo Finisci di pulire Allora Parli con Alice Cada Vede pistola Cada scopre Una via di fuga Perché via di fuga Ci sono gli spoiler In questa roba Dai